malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene i prezzi delle materie prime sono esplosi nell'ultimo periodo e la grande mia preoccupazione non è l'inflazione ma la stagflazione cioè quella situazione nella quale si registra contemporaneamente la crescita dei prezzi e la mancanza di crescita nell'economia reale l'italia è a livello mondiale il paese nel quale si registra il maggior livello di ostacoli al fare economia reale cioè impresa per una serie di difficoltà di tipo burocratico normativo e fiscale trovate queste cose diciamo nelle ricerche di master bank research che è la mia scuola per commercialisti sudati banca d'italia e istat e nadef inoltre il nostro paese chiaramente bancocentrico cioè legato al circuito finanziario definito indiretto ha visto nell'ultimo decennio a seguito delle politiche del rigore un calo notevole della media dei prestiti concessi alle imprese fenomeno noto come credit crunch mi fermo qui e commento la pillola di oggi quello che si sta verificando sul nostro paese è un momento di stagflazione cioè di crisi da produzione quindi incapacità di produrre reddito e nello stesso tempo aumento dei prezzi per una serie di fattori che sono però prevalentemente esterni legati a fenomeni esogeni che sono stati prima la pandemia che soltanto gli idioti negano abbiano abbia avuto un grave impatto economico e e poi le recenti vicende le recenti vicende belliche bene questo è il primo fattore il secondo fattore è la restrizione del credito cioè si sta verificando me lo dicono i commercialisti di master bank con i quali io lavoro che i clienti fanno fatica a pagare le fatture perché a loro volta fanno fatica a come dire ricevere i pagamenti cioè si sta bloccando la liquidità del sistema ora mentre la nostra classe politica si diverte a prendere in giro l'elettorato facendo come sempre le i programmi letterali più demagogici che io abbia visto negli ultimi 30 anni ecco io vi invito a riflettere su di voi c'è un posto nel quale si parla di economia umanistica che ha il titolo di questa rubrica è il canale telegram mio personale valerio malvezzi canale ufficiale venite la sul canale telegram dove tutti i giorni io faccio delle brevi lezioni di economia ma di tipo diverso è una economia per l'uomo è l'economia per l'anima è l'economia per rendere diverso noi da un fustino da supermercato un software oppure uno che vota noi siamo anche altre cose vi aspetto malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene